Per la seconda volta in un anno Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. La prima volta è successa lo scorso marzo, quando il 48enne ha perso i suoi 2 milioni di follower subito dopo aver pubblicato delle storie contro alcuni GFini del GF VIP 6. L'ex re dei paparazzi ha poi aperto un altro account arrivato a circa 200.000 seguaci, che però è stato bannato una settimana fa, dopo alcuni post su Ilari Blasi, Francesco Totti e Sean Brocca, ex fidanzato della conduttrice. Nel momento del nuovo ban Fabrizio Corona stava registrando un filmato per non l'arena e uno dei suoi collaboratori l'ha informato della brutta notizia. La reazione dell'uomo è stata quindi catturata in diretta e trasmessa ieri sera nell'ultima puntata del programma di Massimo Giletti. Veramente? Mi hanno bannato ancora? Non dite cavolate! Sul serio è successo ancora? Ho 68 messaggi su WhatsApp. Vice è stata effettuata la disconnessione. Non ci posso credere. E avete provato ad accedere? Si avevo pubblicato la roba di Totti che mi chiedeva di accettare i suoi messaggi. No ragazzi non è possibile. Fabrizio Corona. Il suo avvocato parla della chiusura del profilo Instagram. Ritengo che questo sia illegittimo. Si il suo account è stato ancora disabilitato. Lui mi ha chiesto cosa penso a riguardo e devo dire che Instagram ha rotto. In un paese come l'Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente. Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Siamo in Italia, non in Russia. Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è sbagliato perché esiste una cosa chiamata codice civile e sopra c'è un'altra cosa che si chiama carta costituzionale. Il regolamento di Instagram prevede che, a loro insindacabile giudizio, e su questo avrei molto da dire, se ritengono di trovarsi di fronte a pubblicazioni che ledono le linee guida, possono chiudere il profilo. Ma comunque te lo devono dire prima, altrimenti diventa censura. La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento.